ciao a tutti la nostra giornata dedicata all'orso stuficchiato sta per terminare in realtà abbiamo scoperto che annoiarsi non è poi così male perché proprio dalla noia nascono le idee più belle e possiamo dare libero sfogo alla nostra fantasia prima di augurarvi la buonanotte come ogni sera vedremo cosa farà il nostro amico orso prima di andare a dormire ai confini dei libri c'è una storia che mi chiama ma io non rispondo dentro i libri il silenzio è sovrano le parole mi punzecchiano mi spingono e mi graffiano avete sentito domani l'orso si infavolerà beh questo significa che domani sarà una giornata davvero favolosa ciao a tutti i bambini e buonanotte vi aspettiamo domani